Aspettando Olivetti Aperti Olio Tour oggi vi porta a Sarzana, Molino e Frantoio Fratelli Ambrosini. Seguitemi. Ciao Roberto, ciao Luigi. Allora, come sta andando questa preparazione per Olivetti Aperti? Ben arrivato Leonardo. La nostra azienda ha circa 8 ettari di olivetto. La nostra produzione si basa essenzialmente sul olio DOP Riviera Ligure. Vi faremo vedere i nostri olivetti, una visita a Frantoio con le spiegazioni. Inoltre vi faremo assaggiare l'olio DOP con una buona bruschetta del buon vino. Vi faremo vedere anche le nostre occhi. 18 e 19 giugno Olivetti Aperti in tutta la Liguria. Ciao.